Domenica 12 giugno si vota per cinque referendum sulla giustizia. È una materia molto complicata che purtroppo non è stata affrontata né dal Parlamento né dai partiti dell'opinione pubblica in questi mesi di avvicinamento all'appuntamento elettorale. È un'occasione persa perché si sarebbe potuto aprire una grande discussione civile dentro il Paese su quello che serve alla giustizia italiana per funzionare meglio. È comunque un'occasione, come tutte le volte che ci viene data l'opportunità di votare, per andare ad esprimere la propria opinione. Azione schierata per il sì su tutti e cinque quesiti referendari. Premetto che è una materia complessa, come dicevo, e su cui anche opinioni diversano il loro fondamento di verità e come sempre una loro legittimità. Però sono quesiti che pur non toccando tutti i problemi della giustizia italiana iniziano a dare un segnale, ad aprire uno spiraglio per avere una giustizia più garantista, come la nostra Costituzione sancisce, e una giustizia che funzioni meglio, in modo più equilibrato nel rapporto tra la parte giudicante e la parte incoerente. Come dicevo non si toccano tutti i problemi, molti sono legati alle lungaggini dei processi, alla burocrazia o alcune leggi su cui forse si potrebbe aprire sicuramente una riflessione. Però un passo avanti su cui nell'indifferenza purtroppo generale il Paese è chiamato tra pochi giorni ad esprimere la propria opinione.